Lo scorcio di uno giorno speciale nella quotidianità della famiglia Capitta Cuccarini è al centro dell'ultimo post che Lorella Cuccarini ha dedicato a due dei suoi quattro figli. Oggi, martedì 2 maggio, i gemelli Chiara e Giorgio compiono 23 anni e gli auguri della loro mamma arrivano attraverso le foto e la dedica pensata per i suoi ragazzi. In casa Capitta, i primi giorni di maggio sono sempre giorni di festa. Una valanga di auguri ai torelli di famiglia. Con la speranza che sia per voi un anno ricco di felicità e di progetti realizzati ha scritto la ballerina e prof di amici a corredo della raccolta di immagini che ricordano questo giorno. Nessun particolare stravagante né festeggiamenti clamorosi negli scatti scelti da Lorella per celebrare il compleanno di Chiara e Giorgio, solo un abbraccio tra i due fratelli e un momento di serenità con il marito Silvio Capitta accompagnano i suoi auguri per loro, seguiti da un coro di messaggi da parte degli utenti che virtualmente partecipano alla piccola grande semplicità della riunione di famiglia. Real video vi ringrazia per essere rimasti fino alla fine, iscriviti e attiva la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi video.